Un fine d'anno pieno di attività sul fronte urbanistico per il comune di Brescia. L'annuncio arriva dal sindaco del Bono dopo la giunta del 30 dicembre. Addio definitivo al progetto di sede urbanistica del comune presso gli ex magazzini generali. La bozza d'accordo congiunto con nuovi assetti urbani prevede infatti il ritorno alle volumetrie pre-PGT. Saranno realizzati quindi un parco, alloggi di edilizia residenziale pubblica e privata, uffici ed un centro commerciale. In arrivo anche opere per 10 milioni su via Corsica e via Dalmazia. Grazie Opere di scomputo degli oneri anche per via Albertano da Brescia grazie all'ampliamento della clinica Sant'Anna che porterà a spese della clinica una nuova pista ciclabile ed una postazione bicimia. Riprende inoltre il dialogo sullo scambio di caserme Ottaviani-Randaccio tra comune e stato centrale. Grazie 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 Grazie